Sono diverse centinaia, stima in difetto, le famiglie trevigiane coinvolte dallo sblocco degli sfratti a partire dai prossimi mesi. Con un mini emendamento al decreto sostegno infatti si è intervenuti scalando le esecuzioni degli sfratti per morosità, spalmandoli tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021. E se da un lato ci sono gli affittuari in difficoltà dall'altra, vi sono altrettanti proprietari che vedono venir meno un'entrata, spesso anche necessaria, rappresentata dal mancato versamento dell'affitto. Un quadro che preoccupa il Sunia di Treviso, che da anni denuncia l'emergenza abitativa e la carenza di alloggi popolari. La crisi, poi causata dalla pandemia, ha gravato una situazione già complicata. Tante le storie che hanno attraversato gli uffici del sindacato degli inquilini, come quella di una giovane coppia di genitori. Questi ragazzi hanno dovuto per qualche mese decidere se pagare l'affitto o se mandare il bambino all'asilo. Per un po' hanno fatto fronte al pagamento dell'affitto, dopodiché hanno poi deciso di, quando era possibile, naturalmente far andare il bambino all'asilo. L'intervento degli assistenti sociali ha permesso a questa coppia di non dover scegliere tra l'affitto e la continuità educativa del loro bimbo. Ci sono poi gli anziani soli che spesso faticano a pagare il canone di locazione, come è successo a questa signora. Ha una patologia particolare che deve essere curata. Vi sono tutta una serie di farmaci antidolorifici e antinfiammatori che determinano una spesa importante, quindi questa signora ha avuto la necessità di, anche in questo caso, un intervento da parte degli assistenti sociali per aiutarla. La donna si è rivolta al Sunia molto tardi e quando le è stato chiesto il perché, la risposta ha spiazzato tutti. Lei mi ha detto che, non essendo sicura del costo della tessera del Sunia, non voleva venire per chiedere l'intervento gratuito. Spesso la vergogna e la dignità bloccano questi cittadini nel chiedere aiuto, famiglie giovani o anziani soli che si trovano in difficoltà anche nel sostenere il pagamento delle spese condominali, con conseguenti ritardi o blocchi nell'attività dei palazzi in escando, spiega Gava, problematiche di aggressività difficili da risolvere. Affrontare il tema dell'emergenza abitativa rifinanziando l'edilizia residenziale pubblica e prevedere un fondo di garanzia per i proprietari sono le istanze che Sunia ha portato ai tavoli convocati in prefettura in queste settimane con l'obiettivo di arrivare ad un protocollo già adottato in altre province italiane. A cercare di indirizzare i cittadini che abbiano una situazione di sfratto verso quell'aiuto economico che è il più idoneo alla situazione che stanno vivendo.